Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova reaction. Oggi è uscito finalmente il trailer di Luca, prossimo film Disney Pixar in uscita a giugno 2021. Si spera ovviamente al cinema. Ovviamente quando si parla di cinema io dico sempre si spera perché non c'è sicurezza per nulla ultimamente. Ho già parlato di Luca qui sul canale, trovate il link del video qui nelle schede e magari anche in descrizione. Ne ho parlato già tempo fa, proprio quando il film è stato annunciato, che se non erro verso luglio-agosto, forse anche giugno, non ricordo bene. E comunque oggi è uscito il primo teaser trailer. Dura un minuto e venti, non l'ho ancora visto ovviamente anche perché è appena uscito. E stavo lavorando al video che sarebbe dovuto uscire oggi sul titolo di Spider-Man 3, che però verrà messo, ahimè, da parte per dare un po' di precedenza a questa trailer reaction. E niente, se volete prima di iniziare lasciate un like, iscrivetevi se non siete iscritti e seguitemi su Instagram, trovate il link giù nella descrizione. Direi di mettere subito le cuffie e di iniziare a guardare questo teaser trailer. Sono davvero curioso di vedere questo teaser e di vedere il film ovviamente perché sarà il primo film Pixar ambientato in Italia. E iniziamo! Prima cosa che si vede ovviamente è il mare. Ho già detto che spero non sia un film stereotipato, però vedremo. Lo stile grafico mi piace davvero tantissimo, diverso dai soliti film Pixar. Sulla Vespa, ovviamente. Eccolo. Ci sono problemi allora. Sdonte. My son of Shino. Da dove avete detto che venite? Lui sembra molto il personaggio del cortometraggio che ha fatto anche il regista ovviamente. Se non sbaglio si chiamava la Luna. Comunque ragazzi, nulla di che ovviamente nel trailer ci hanno fatto vedere veramente pochissimo essendo un teaser. E sì, sembra poco stereotipato in realtà. Anche se la prima cosa che si è vista è il mare, che comunque è una cosa molto importante qui in Italia. Sapevamo già il fatto che Luca in realtà fosse un mostro marino, ma almeno io non sapevo proprio che lo fosse anche il suo miglior amico. Pensavo che uno dei due fosse umano. Comunque, il fatto che appena tocchino acqua si trasformino in mostri marini mi ha ricordato tantissimo la serie per ragazzi H2O. Non so se la conoscete, io la guardavo. Come ho già detto, lo stile grafico mi piace davvero tanto. Sono super curioso di scoprire come sarà il film nella sua interezza. Non ci hanno dato una data ufficiale di uscita, anche perché ormai di ufficiale c'è ben poco, dato che è tutto in bilico, davvero tutto. Qualsiasi data venga data, scusate il gioco di parole, non è certa. E quindi penso che avremo una conferma solamente quando le cose si sistemeranno. Spero solamente che non venga rimandato. Luca fa parte dei film che attendo di più quest'anno, quindi spero che rimanga nel 2021. Comunque ragazzi, fatemi sapere con un commento qui sotto cosa vi aspettate da Luca. Io ripeto, non vedo l'ora di vederlo. Non ho visto molta roba del regista italiano, però ho visto il cortometraggio che ho anche citato, perché quel personaggio sembrava realmente lo stesso del cortometraggio. Probabilmente è appunto un riferimento. E il cortometraggio La Luna è molto molto bello, quindi vi consiglio anche di vedere La Luna, lo trovate tanto su Disney+. Fatevi sentire voi con i vostri pensieri qui sotto nei commenti. Se volete seguitemi su Instagram, trovate il link giù nella descrizione. Lasciate un like al video se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi se ancora non siete iscritti. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi. Noi ci vediamo in un prossimo video, sempre sul mio canale. Andri passa e chiude. Ciao! Ciao!